welcome lucio opinion ragazzi benvenuti su opinione di luzio e poi avrete altre lingue in quest'oggi quest'oggi come avete visto ben mostra da quello che è il titolo del del video oggi vi voglio parlare di chi è svelare l'arcano che già per 24 ore sta angosciando tutto il mondo del killer di boston che ha messo due bombe e ha voluto uccidere diciamo o tentato di uccidere una massa di persone che era la gente comune qualunque non i grandi della maratona ma il grande evento e la gente di tutti i giorni ok far male perché logicamente tutto questo perché logicamente questa persona è una persona che ha un nome e ve lo dirò alla fine del video come tutti i miei video da bravo lucio opinion e quello che vi posso dire logicamente che quello che vi posso dire è che logicamente le piste sono stanno dicendo che è una persona che può essere di matrice nera ok una persona razzista una persona che magari spalleggia le industrie delle armi o una persona un fanatico diciamo di qualche tipo di pseudo per vendetta su qualcosa che ha una rivalza a livello politico con obama e quindi questo premierebbe se prenderebbe questa pista le fbi o tutte le intelligenze americane dalla cia e quant'altro a far sì che obama possa riavere la poltrona da presidente e quindi aumentare i suoi punti oppure sceglierei me la cia le fbi la pista islamica quindi adesso così toccherà obama spalleggiare che tutto quello che è l'intelligenza ruoti su qualcuno che odia i neri qualcuno che odia che le armi vengono tolte alla al negozio come le caramelle o tutti quelli che vogliono togliere persone che creano interessi che non va che si scontrano con la green economy diciamo del di obama con la linea democratica anche le stesse assicurazioni che non vogliono dare l'assistenza gratuita a tutte le persone che non hanno reddito ok come ha fatto diciamo obama che si è spalleggiato e si scontra con certe lobby economiche logicamente boston è una città che in teoria pone il risalto dello stesso obama perché conosce molto bene quella città e quindi dalla provenienza e quindi magari può dire che mette in repentaglio la sua persona quindi vogliono attaccare lui come persona però bisogna vedere da che punto lo vogliono attaccare se lo vogliono attaccare degli islamici logicamente obama perderà la poltrona comunque sia tutta la sua fetta di persone dicono che sicuramente è stato un impossibilitato a difendere gli americani dall'urda islamica dalla sete di vendetta degli islamici che vogliono rivendicare i loro diritti della loro terra del loro petrolio e di quello che è la loro cultura popolare e che quindi tutto questo questo senso di voler andare a salvare l'afghanistan l'iraq la libia o quanti altri paesi dove c'è il musulmanesimo logicamente è andata a essere una cosa che va a trafiggere il suolo americano con delle vittime e non avendo la possibilità di difendere io invece vi dico chi è il reale o esecutore logicamente tenete aperte le orecchie il reale esecutore è la stessa macchina e indovinate un po che è inizia con la e con la s e finisce e finisce con la la società ragazzi sì la società è colui che partorisce questi eventi perché le barricate siamo po siamo sempre soliti noi metterle noi col vicino di casa perché vota berlusconi non ci parliamo perché noi votiamo bersani noi con l'altro vicino di casa che testimone di geova a retro satana io sono sono fedele al mio parroco della mia parrocchia e lo seguo tutte tutte le domeniche mattine a dire la sua melia ragazzi io con quell'altro vicino di casa non ci parlo lui addirittura ha fatto la coppia di fatto quel matto di sindaco fa sposare i gay io so per i dietro sessuali è una legge contro natura sposarsi non uomo con donna queste sono le barricate che che la società stessa vuole che esistano perché si deve sempre etichettare comunque sia un qualcosa io sono malato di tumore io sono malato di omosessualità io sto bene con dio io sto bene con i gay io sto bene con i testimoni di geova io sto bene con gli estremisti di sinistra io sto bene con chi ho dei neri io sto bene con chi puzza io sto bene con chi mi costa poco io sto bene invece con chi mi costa tanto quindi c'è il tavernello e quindi c'è il cristal che è uno champagne se non lo conoscete ognuno sceglie con chi star bene e con quello creare delle barricate intorno a sé questo è altro insomma e quindi questa persona non stava bene con nessuno ecco che quindi non sta bene con nessuno odia tutti e quindi mette la bomba è la società non vi spaventate ragazzi cioè poi adesso ve la etichetteranno è naturalmente perché le etichette loro le devono mettere come se siete soliti fatti voi ma siamo noi società che dobbiamo mettere le etichette questo è uno che secondo me la vista lunga odia tutti e non vuole avere a che fa con nessuno e ve l'ha detta gran voce oltremente non si farà più sentire cadrà l'anonimato come luna bomber colui che odiava tutti nella stessa fattispecie di questo di boston metteva la varecchina nell'acqua non a caso e non si è mai saputo chi è se hai cercato anche lì etichettarlo setà il psicopatico il mente il mentecatto però che avevano la laurea in ingegneria perché aveva di meglio il personaggio infatti specie che poteva andare bene nella società poi alla fine è decaduto tutto ciao ciao ragazzi benvenuti sempre sul pirone di luzzo arrivederci